Gli agenti della Polizia di Stato e della squadra mobile di Salerno, sezione criminalità diffusa Falchi, hanno arrestato un 34enne salernitano, già noto alle forze dell'ordine, poiché già in passato tratto in arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di 21 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L'intensificazione del monitoraggio della zona centrale della città da parte delle battuglie della sezione Falchi è stata opportunamente predisposta per contrastare il crescente fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito della movida cittadina. L'intesa con il PM di turno di 34enne è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari per detenzioni e fini di spaccio di sostanze stupefacenti.